Trieste sotto shock, dolore, rabbia e stupore per la vicenda della neonata abbandonata, le testimonianze di chi ha dato l'allarme. Ai nostri microfoni il procuratore capo di Udine sull'indagine aperta sul caso false vaccinazioni. In 36 anni di carriera mai capitato un caso del genere. Tempo instabile sulla nostra regione ancora per qualche giorno, le piogge non cesseranno fino al termine della settimana. Ieri l'esordio di Bari c'è la promozione di Perzi ad Nantitolari del Nere e potrebbe proseguire su questa strada nel finale di campionato. Pubblico numeroso a Tolmezzo per la spettacolare tappa del campionato italiano di Trial, vince Matteo Grattarola. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il notiziario di Udinese TV. Apriamo come sempre con lo sport, parola quindi ad Alice Matteloni. Buonasera Alice. Buonasera Francesco e buonasera a tutti voi amici da casa. Partiamo con lo sport perché si è appena conclusa la 35esima giornata di campionato che ci ha visti appunto giocare in casa contro l'Atalanta, siamo riusciti a guadagnare un punto positivo in una gara giusta e equilibrata, ma soprattutto abbiamo visto in campo schierato tanto futuro, in particolar modo dal primo minuto a Andrei Balic. Il servizio. Si è appena conclusa la 35esima giornata di campionato e già la concentrazione va alla prossima gara, quella contro il Crotone, dall'Atalanta, il cui obiettivo è l'Europa, a una squadra, il cui obiettivo è la salvezza. Occhi puntati al futuro quindi, esattamente come sembra aver fatto Gigi Del Neri nel lunch match di ieri. Un'audinese 2.0 che ha visto schierato dal primo minuto il tanto atteso e reclamato Andrei Balic. Fino ad ora sceso in campo solo con la primavera, il croato, classe 97, ha pienamente superato il test contro un'avversaria tutt'altro che semplice. Ma se questa è stata la più grande sorpresa di formazione, non da meno è stata la scelta di schierare in campo dal primo minuto anche l'iracheno Adnan, che si è trovato di fronte Kurtic, un cliente scomodo che però è riuscito a limitare con successo. E Perizza, che ormai abbiamo capito avere il fiuto del gol. Perizza, che al 76esimo ha lasciato il posto a Evandro. E quindi il messaggio è chiaro, largo e giovani. Un progetto, quello di Del Neri, che a tre giornate dalla fine della stagione sembra prendere forma e ci proietta già in un futuro ricco di sorprese e novità. E allora vediamo in sovraimpressione quelli che sono stati i risultati di questa 35esima giornata di campionato. Ecco, li vedete. E' uno sguardo anche alla classifica. La Roma, che appunto avendo vinto il posticipo di ieri sera, potrebbe, battendo la Juve, ritardare la festa Scudetto nella prossima gara che le vede protagoniste. Quindi per il secondo posto si trova solo un punto di differenza con il Napoli. Per cui, insomma, il secondo posto è in dubbio fra le due squadre. E l'Udinese, che può lottare, nelle sue mani appunto c'è il decimo posto, essendo a solo due punti di distanza dalla Sampdoria. E' appunto dovendo ancora arrivare la sfida che le vedrà protagoniste. E ora un'ultima notizia per quanto riguarda la licenza UEFA. Perché si è riunita proprio oggi la Commissione di primo grado delle licenze per esaminare la documentazione per il rilancio delle licenze stesse per la stagione sportiva 2017-2018. La Commissione ha esaminato la documentazione pervenuta nell'ambito del processo di rilascio e ha deliberato appunto di rilasciare all'Udinese la licenza per la stagione successiva. Per quanto riguarda lo sport per il momento è tutto, Linata e Francesco. Grazie, grazie Alice. E allora adesso occupiamoci del caso della neonata abbandonata e poi morta al burlo Garofalo ieri a Trieste. La città è sotto shock. Siamo stati oggi con le nostre telecamere in città per dare a vedere il luogo dove la neonata è stata abbandonata e abbiamo ascoltato anche le testimonianze di chi ha dato il primo allarme con i colleghi, grazie ai colleghi di Telequattro che hanno effettuato questo servizio. che avrebbero messo un fiore per quel povero, per quel povero azzoletto che non c'è più. È vergognoso proprio. Non so cosa dire altro. Tocca, tocca profondamente tutti, penso. È stato trovato in questo giardino il corpicino della neonata abbandonata e trovata ieri ed è stata proprio Sara che, mentre era fuori con i cani, ha notato questa bambina. Cosa è successo? Eravamo giù con i cani, come sempre, ora di pranzo. A un certo punto i cani insistevano per venire da questa parte e ci hanno fatto trovare il corpicino di questa bambina. Dov'era? Esattamente qui, qua c'era un sasso, qua c'era la testolina e qua c'era la sua schiena. Cosa avete fatto quando l'avete trovato? Pensavo fosse una bambola, invece mia figlia si è avvicinata e ha visto che respirava e abbiamo chiamato immediatamente il 118. Noi eravamo lì, eravamo sedute, io, lei e la mamma erano con i cagnolini che la portavano verso di qua. Eravamo sedute, poi la mamma ha detto venite qui, ma cosa c'è una bambola? Siamo andate abbastanza vicino perché io e lei siamo un po' così e ci siamo accorti che veramente era una bambina, insomma era un neonato. La neonata è stata immediatamente intubata sul posto, poi la corsa all'ospedale infantile Burlo Garofolo e i tentativi disperati dei medici di salvarle la vita. Nonostante tutti gli sforzi fatti, il suo cuore ha smesso di battere ieri in serata. Mi sembra, sono rimasto sbalordito perché siamo nel 2000, si può lasciare anche il bambino al burlo, no? Il marito che è un uomo, questa notte non ha dormito niente, aveva solo quel pensiero, è che non l'ha vista lui. Sto ancora male. Una ragazza di 16 anni è indagata per la morte della piccola. La giovane è a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori in attesa dell'autopsia sul corpicino. Gli accertamenti puntano a verificare se la giovane abbia agito da sola o se qualcuno possa averla aiutata nell'abbandono della piccola. La famiglia di provenienza della ragazza non presenterebbe elementi di disagio né problematiche sociali. Sara, la donna che ha rinvenuto il corpo della neonata, confessa che se la bambina fosse sopravvissuta sarebbe stata disposta ad uno straordinario gesto di umanità. L'avrei adottata? Come l'avrebbe chiamata? Speranza? E adesso torniamo ad occuparci del caso dei falsi vaccini. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo. Siamo andati oggi ad intervistare il procuratore e capo Antonio De Nicolo. Sentiamo. È un'indagine assolutamente peculiare. Ho già dichiarato che è la prima volta che capita nella mia esperienza di ormai 36 anni di magistratura una vicenda del genere. Quindi dobbiamo avere tutti quanti, sicuramente la collega che seguirà il caso ed io come capo dell'ufficio, l'umiltà di dire cerchiamo di raccogliere i più elementi possibili per capire esattamente come sia andata. Detto questo, non è che possiamo immaginare oggi quello che accadrà perché l'indagine era doveroso aprirla in quanto parliamo di reati perseguibili d'ufficio ed è doveroso svolgere con la massima serenità e con la massima attenzione tutti gli accertamenti necessari per capire esattamente cosa sia successo. Io sono dovuto intervenire perché mi sembrava opportuno dare un messaggio verso l'opinione pubblica che era giustamente preoccupata e spaventata facendo capire che le nostre indagini non dovranno interferire con il piano di rivaccinazione che l'autorità sanitaria ha ritenuto indispensabile. Noi dobbiamo recuperare documentazione e testimonianze su fatti non recentissimi, quindi non abbiamo la fretta di agire oggi piuttosto che domani. Poi dove indaghiamo, cosa facciamo, quali saranno le prossime mosse, questo fa parte dei segreti istruttori e quindi non posso rivelare particolari. Abbiamo letto che per un reato di questo tipo se dovesse essere accettata una responsabilità, pene intorno ai due anni, se non ricordo male. Il massimo due anni. Il massimo due anni. Ecco, l'opinione pubblica di fronte ad una pena di due anni per un caso del genere potrebbe essere di nuovo scossa poi. I reati ipotizzabili sono le omissioni di nati d'ufficio e punite in questo modo. Il legislatore da tempo immemorabile ha ritenuto che questi sono i limiti di pena. Si va, mi pare, da quattro o da sei mesi come pena minima fino a due anni come pena massima. La falsità in certificazioni sanitarie, che è l'altro reato che secondo me si può astrettamente ipotizzare, ha dei confini di pena analoghi. E queste sono le scelte del legislatore. Il magistrato può soltanto operare all'interno di quelle range. I lavori per la terza corsia proseguono a sprombattuto sulla A4, viaggio delle telecamere in comune nel cantiere dell'autostrada e per il percorso verso la nuova società che prenderà il posto di Autovie Venete. Il Friuli Venezia Giulia manterrà la maggioranza, ad assicurarlo il presidente Castagna. Ecco un'anticipazione della puntata di domani sera di Fuori Tutto, dedicata interamente alla nostra visita al cantiere con le interviste che ha raccolto David Zanirato. Virtualmente ora ci siamo spostati sulla timeline dei lavori della terza corsia sull'autostrada A4 Venezia Trieste. Noi ci troviamo proprio qui all'ex casello di Ronchis e siamo venuti ad incontrare l'ingegner Denis Padoani, che per Autovie Venete è il direttore ai lavori di questo grossissimo cantiere che sta rivoluzionando la viabilità a nord-est. Ingegnere, una bella gatta da pelare. Certo, certo, è un'opera molto importante, molto complessa. Teniamo conto che l'allargamento avviene sempre in presenza di traffico, quindi non chiuderemo mai le corsie. Ci saranno degli inevitabili, diciamo, disagi all'utenza perché restringeremo le corsie, però rimarrà sempre il traffico aperto. Allora i chilometri sono 26, parte quindi dal Visopoli in Regione Veneto per arrivare a San Giorgio di Nogaro in Friuli. Quindi attraverso due province e 11 comuni. Operai al lavoro attualmente sono circa 300 maestranze tra tecnici e operai. L'impresa è giudicatrice e lati composta da Rizzani, Decker e Pizzarotti. Il tempo contrattuale previsto sono 1430 giorni, quindi poco meno di 4 anni, ma l'obiettivo è quello di ridurre i tempi sensibilmente. Abbiamo visto dunque che il cantiere della terza corsia procede, Presidente Maurizio Castagna, nel frattempo si inizia anche a delineare il futuro di Autovie Venete, scaduta la concessione autostradale. Si chiedono in molti se in questa nuova società la rappresentanza del Friuli Venezia Giulia rimarrà di maggioranza, ci sono garanzie in tal senso? Sì, nel memorandum di intenzioni che era stato firmato a dicembre dello scorso anno tra le regioni Friuli, Veneto e Danas, è proprio contemplato che la regione Friuli Venezia Giulia detenga comunque la maggioranza e Danas una partecipazione significativa che potrebbe aggirarsi intorno al più del 40%. E allora, se volete scoprire di più su quello che sta avvenendo sulla 4 nel cantiere della terza corsia, non perdete domani l'appuntamento alle 21 con un fuori tutto curato da David Zanirato. Ancora in stabilità in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda le condizioni del meteo, le piogge di oggi non sono un fenomeno isolato, andremo avanti almeno fino al weekend. Vediamo. Altro che primavera dietro l'angolo. Ancora per qualche giorno sarà bene rassegnarsi e uscire con l'ombrello al seguito. Le forti piogge che anche oggi si sono abbattute a macchia di leopardo sulla regione proseguiranno infatti per tutta la settimana. Ma secondo l'OSMER non si tratta di un fenomeno eccezionale, bensì di un maggio a cui in Friuli Venezia Giulia non eravamo più abituati. Ci aspettiamo ancora dei possibili rovesi temporali sparsi nella giornata di domani, stabilità quindi che continua piuttosto a macchia di leopardo. Per mercoledì direi un cielo in prevalenza nuvoloso, nuove piogge, nuovi rovesi in arrivo, fra giovedì sera e venerdì mattina ancora tanta aria umida che affluirà verso la nostra regione, sono previsioni che vanno comunque aggiornate. Questa settimana dobbiamo un po' essere pazienti perché ci saranno ancora condizioni favorevoli alle piogge rovesse direi anche nella seconda parte della settimana, ovviamente poi bisognerà seguire l'evoluzione, probabilmente per la prossima settimana dovremo avere condizioni più stabili e temperature anche in lieve ripresa. Direi che è un po' la normalità che in Friuli ci siano frequenti rovesci temporali nel mese di maggio, ci eravamo abituati in questi ultimi anni ad avere degli anticipi d'estate con temperature molto alte appunto già nel mese di maggio, ma era questa l'eccezionalità rispetto alla climatologia del Friuli che vede appunto delle primavere piuttosto instabili e piovose, non solo nel mese di maggio ma talvolta anche per il mese di giugno. Speriamo, speriamo bene davvero perché un po' di sole non farebbe male visto che siamo in primavere e ci avviamo verso la stagione turistica. Cambiamo argomento, dopo due anni dal crack di Copca l'80% dei lavoratori è stato ricollocato, un importante risultato grazie al protocollo d'intesa tra la regione Friuli Venezia Giulia e l'Agenzia Umana per il Ricollocamento dei Lavoratori. Vediamo. Ad oggi i lavoratori ex Copca complessivamente occupati in Friuli Venezia Giulia sono 387, mentre sono 91 quelli che attendono ancora di poter recuperare un posto di lavoro e rimangono quindi in carico all'Agenzia regionale per il lavoro. I dati illustrati oggi a Tolmezzo durante il vertice promosso dall'assessore regionale Panariti hanno evidenziato come su 626 lavoratori della storica cooperativa carnica in licenziamento, tolti 148 in mobilità fuori regione, 270 sono stati ricollocati presso altro datore di lavoro e 208 in mobilità sono stati presi in carico dal centro regionale per l'impiego. Di questi si è riusciti a rioccuparne il 56,3% grazie a diverse azioni tra aggiornamento dei curricula, informazioni su ricerca e attività, opportunità formative e di orientamento specialistico. A un anno di distanza restituiamo dei dati positivi che ci fanno capire innanzitutto come il modello di collaborazione Agenzia regionale per il lavoro, Agenzie private, territorio, parti sociali dia dei risultati positivi. Stiamo lavorando e continueremo a lavorare affinché tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici ex coppa possano trovare una ricollocazione. I principali settori in cui sono stati assunti vedono per il 60,7% il comparto turismo, edilizia e trasporto mentre per il 39% il commercio e i supermercati. Circa un 10% invece si sono messi in proprio. Passiamo alla cronaca giudiziaria. Oggi 27esima udienza del processo a carico di Giosuè Ruotolo accusato di aver ucciso a Pordionone i fidanzati Trifone Ragone e Teresa Costanza. Una dozzina i testimoni chiamati dalla difesa oggi a deporre. Vediamo. 27esima udienza per il processo che vede Giosuè Ruotolo, unico imputato per l'omicidio dei fidanzati Trifone Ragone e Teresa Costanza, avvenuto il 17 marzo di due anni fa nel parcheggio del palasporto di Pordenone. Una dozzina i testi ascoltati in corte d'assise a Udine, chiamati dalla difesa a proposito delle cosiddette piste alternative, inizialmente vagliate dagli investigatori ma poi scartate. Tra coloro che sono stati sentiti anche Simone Quarta, amico e collega di Trifone, che ha parlato del pomeriggio del 17 marzo e dell'identikit fornito agli inquirenti di una persona che guardava spaesata all'interno della palestra, come per cercare qualcosa a qualcuno e che si era poi limitato a fare qualche domanda a uno degli istruttori sull'attrezzatura. Tra le piste prese in considerazione anche quella che portava verso un militare dell'esercito, residente vicino al palasporto, ma che la sera in questione si trovava ad Aviano. Un altro frequentatore della palestra ha riferito in aula di non avere l'abitudine di parcheggiare l'auto nella zona dell'omicidio, in quanto lì era stata precedentemente scassinata. Il sindaco di Marano ha interrotto lo sciopero della fame. Ricordiamo che aveva intrapreso questa via di protesta contro il passaggio delle competenze della laguna di Marano all'Uti. Vediamo il servizio. I nodi che attualmente dividono Regione e Comune di Marano sulla tema della proprietà del compendio della laguna saranno affrontati in un tavolo tecnico-politico che auspicabilmente andrà a dipanare una matassa assai aggrovigliata, frutto di un annoso arretrato di questioni irrisolte e di interpretazioni controverse. La decisione di ricercare questa soluzione attraverso il dialogo è stata assunta oggi nel corso di un incontro che il sindaco di Marano, Davis Formentin, accompagnato da altri componenti dell'amministrazione comunale, ha avuto in municipio con l'assessore regionale al patrimonio, Francesco Peroni. Un incontro che secondo le parti si è svolto in un clima costruttivo, tant'è che il sindaco ha anche annunciato la decisione di interrompere lo sciopero della fame iniziato circa dieci giorni fa in segno di protesta per l'approvazione della nuova legge regionale in materia di demanio. La questione della proprietà della laguna affonda le radici nel decreto legislativo 265 del 2001, in base al quale avvenne il trasferimento dallo Stato alla regione del demanio marittimo lagunare, ha ricordato Peroni. Marano ne rivendica la proprietà sulla base di fonti storiche che ritiene prevalenti. Io, aggiunto Peroni, non mi esprimo. Prima occorre un percorso di confronto formale. Da parte sua l'amministrazione comunale maranese si è impegnata a predisporre un documento politico da indirizzare alla giunta. Se poi non fosse possibile sciogliere in tutto o in parte i nodi in quella sede, tutti abbiamo convenuto, ha concluso Peroni, che trattandosi in effetti di una controversia di natura civilistica dovrà essere un giudice a stabilire chi ha ragione come si conviene in uno stato di diritto. A Sarnano, paese delle Marche colpito dal terremoto, è stata posata la prima pietra della scuola dell'infanzia che la protezione civile del fluo di Venezia Giulia costruirà con i fondi donati da associazioni, imprese e cittadini. L'obiettivo è di inaugurare la struttura per l'inizio del prossimo anno scolastico. Al via la costruzione della nuova scuola dell'infanzia di Sarnano, il comune delle Marche adottato dalla protezione civile del fluo di Venezia Giulia dopo il terremoto. Il progetto esecutivo della struttura, di cui è stata posata la prima pietra, prevede un importo complessivo di 2 milioni 160 mila euro. L'asilo ospiterà un'ottantina di bimbi su due piani, per un totale di 1280 metri quadrati. Una vera e propria gara di solidarietà tra associazioni sportive e culturali, singoli cittadini e imprese, ha permesso finora di raccogliere quasi 500 mila euro. Abbiamo adottato questo comune e la ricostruzione della scuola materna come operazione di solidarietà del Friuli Venezia Giulia nei confronti di queste terre. I tempi che abbiamo messo in campo per riuscire a ricostruire la scuola prima dell'avvio dell'anno scolastico sono davvero sfidanti. Finora gli uomini della struttura della protezione civile hanno fatto il miracolo davvero di riuscire a chiudere le parti progettuali e procedurali che antecedevano a questo momento e oggi ci siamo impegnati in meno di 120 giorni a concludere questa scuola. È un segnale importante e anche simbolico dedicato a una scuola materna, un luogo in cui in una comunità della montagna marchigiana si dà un segno di speranza. 82 sono i bambini che frequentavano la scuola materna che abbiamo dovuto demolire e che oggi ricostruiamo. Opere di altissimo livello al premio d'arte Ronchi San Giuseppe, iniziativa pioneristica in Italia promossa dall'omonima cantina di vini di spessa di Cividario. Oltre 350 partecipanti visionati da una selettiva giuria che alla fine ha selezionato i migliori giovani talenti provenienti da Matera, Bolzano, Parma e Gorizia. Vediamo. Mi sono ispirata appunto alle bottiglie e al colore dell'uva e per realizzarlo ho usato la vernice con delle sagome della bottiglia, ho usato anche il bianco per dare un po' più di vitalità all'opera e ho usato il pluriball per richiamare la forma ovale dell'uva. Ho rapportato l'opera al tema appunto la viticoltura in tutta Italia che comunque è un prodotto molto importante anche a livello mondiale e appunto il titolo Made in Italy rappresenta proprio questo rapporto che c'è col vino e il nostro Stato. Ho realizzato questa collana chiamata Armoni proprio perché l'armonia doveva rappresentare l'armonia tra foglie, acini e quindi grappoli. Ho scelto di realizzare appunto una scultura più precisamente una lampada. Il titolo della mia opera è Accendi la vite e il titolo racchiude un po' tutta l'idea dell'opera quindi ho voluto enfatizzare l'elemento principale che è la vite dando un tocco moderno con le sfere che raffigurano appunto gli acini. È bello perché hanno partecipato moltissimi, 350 ragazzi di tutta Italia che ci hanno portato questi quadri che noi con molta difficoltà anche abbiamo scelto per arrivare ai tre finali e poi anche al premio della nostra azienda e al premio anche che è stato dato dai social che è stata una bella scoperta per promuovere anche i giovani artisti che si dedicano a questo connubio con il vino che è un connubio che è sempre esistito, il vino con l'arte e anche con l'agricoltura. Ci sarà anche la leggenda hollywoodiana John Malkovich tra i protagonisti della 26esima edizione del Middlefest di Cividale. Venerdì 21 luglio sul palcoscenico di Piazza Duomo l'intramontabile icona del cinema internazionale proporrà insieme ai solisti aquilani il recital Report on the Blind dando voce alle parole dello scrittore e attivista argentino Ernesto Sabato. Oltre al già annunciato concertone di Sting previsto per martedì 25 luglio al Parco della Lesa è stata annunciata la partecipazione alla rassegna anche di un altro grande della musica internazionale di indubbia personalità artistica. Si tratta di Goran Bregovic che trascinerà domenica 23 il pubblico accompagnato dalla sua orchestra per matrimoni e funerali. Tema del Middlefest 2017 sarà l'aria con cui si concluderà la trilogia degli elementi ideata dal direttore artistico Franco Calabretto. Ed è il momento di tornare allo sport. Alice. Grazie Francesco perché dobbiamo parlare di Lega Pro. Ieri ultima giornata di campionato sfortunata per il Pordenone perché è stata sconfitta fuori casa dalla San Benedettese per un risultato di 2 a 1 ancorandosi così al terzo posto. E' quindi ora tempo di playoff per poter continuare a sperare nella Serie B. Vediamo la sintesi. Sembra di essere tutto pronto. Lo fa bene il numero 7. In mezzo c'è Sorrentino. Il pallone per lui. Non lo colpisce bene. A Godirin. La risposta di Domei. Subito occasione Sam. Dopo appena un minuto. Prolunga bene per Sorrentino. Ancora Maccuso. Maccuso con la forza. Riesce a passare. Maccuso sarà sposto sul destro. Al tiro. Palo. A Godirin. La palla rimane lì. E poi allontana. Calcio di punizione. Proverà con quel tiro. Lo fa bene Burrai. Troppo il pallone. Ancora Sam. Anche un po' fortunata. Sorrentino vuole l'inserimento di Maccuso. Che spazio con il destro. Il tocco. Dentro. La deviazione. Di Semenzato. Sammetese in vantaggio. Ma sempre l'uomo più pericoloso. Sempre Leonardo Maccuso. Le azioni più pericolose. Partono da lui. Sammetese 1. Pordenone 0. Prova a spingere il Pordenone. Il cross è la sotterra. Per Padovanne. Buono il tocco per Succio. Che allarga per Bulevardi. Può provare il macino. Altro pallone in mezzo. Sovrapposizione di Semenzato. Il contatto. C'è calcio di rigore. Il fallo di Grillo. Ai danni di Gianvito Misuraca. Il 5 a Luca Cattaneo. Sarà calcio di rigore. Può partire Burrai. Con il destro contro Pegorin. Burrai. Dentro. 1 a 1. Salvatore Burrai. Fa 5 stagione. E Sammetese 1. Pordenone 1. Il pareggio di Burrai. Che realizza il terzo calcio di rigore. Nel suo campionato. La Samba. Attenzione al 4 contro 3. Lulli. Sull'estero c'è Mancuso. Lulli può provare il destro. Lo fa. Sul fondo. Il pressing della Samba. Che recupera il pallone. Mancuso serve a Godirin. Che entra in aria. A Godirin. A Godirin. La Samba. Grillo lo può rimettere in mezzo. Lo fa sul secondo palo. Per Sorrettino. Il colpo di testa. Mancuso. C'è un fallo commesso da Sorrettino. Incredulo. Il numero 9 della Samba. Ma il fallo sembrava esserci. Nell'uscita di Tomei. Panna. L'attenzione alla Samba. Con a Godirin. Può spingere. A fiacco lui c'è Mancuso. Arriva anche Sorrettino. Il pallone per Sorrettino. Con il destro. La parata di Tomei. Voleva farlo in mano di Massimo. Che però non sembrava esserci. Allora il contropiede. Qui. Di Martignaco. Che perde il tempo giusto. Aspetta i propri compagni. Burrai. Cotarda servito in questo momento. Tutto regolare. Può salere Rapisarda. Molti uomini da Samba in mezzo all'aria. Il tocco per Di Massimo. Può mettere nel mezzo. Dove arriva Mancuso. Dentro. Rassabba. All'ottantasettesimo. Fa due a uno. Leonardo Mancuso. E' sempre lui. Fa 22 in campionato. Sempre più capocannoniere. Nel girone B e dell'intera Lega Pro. Rietro. Dava l'occhia. Con il destro per Di Massimo. Che poi di Massimo il contatto. Tutto regolare. In questo momento sarebbe Gumpio Sambinettese. E qui c'è un contatto bruttissimo. I danni di Candellori. Infatti viene espolso Purrai. Ora l'accendo di Rista in mezzo al campo. L'avevamo visto nervosissimo Purrai. Dopo il contatto precedente con Candellori. Che rimane a terra. Stordito. Brutto gesto qui di Salvatore Purrai. Rovina una partita molto bella. Finisce qui. Si conclude con una vittoria per il 2-1 al campionato della Sambinettese. Nulla da fare per il Portenone che si deve accontentare del terzo posto. Il primo turno di playoff si terrà domenica 14 maggio alle 18 al Bottecchia contro il Bassano. Comincerà la vendita dei biglietti mercoledì 10 maggio dalle 10 e ci sarà la prelazione per gli abbonati da martedì 9 maggio. Si raccomanda, stante la limitata capienza della struttura, di accorrere all'acquisto dei biglietti già dalle prime ore dell'apertura appunto della vendita. E ora cambiamo completamente disciplina perché parliamo di Trial. Grande successo di pubblico per quella che è stata la seconda tappa del campionato italiano che si è tenuta nel fine settimana a Tolmezzo. A trionfare è stato Matteo Grattarola. È stato un vero e proprio spettacolo quello andato in scena nel fine settimana a Tolmezzo con la gara valida per il campionato italiano Trial. Protagonista assoluto di una competizione tecnica e selettiva, il pluricampione italiano Matteo Grattarola del gruppo sportivo Fiamme Oro, in sella alla sua spagnola Gas Gas. Il talentuoso pilota Lombardo ha totalizzato solamente 20 penalità nell'affrontare l'umido e impegnativo percorso di gara suddiviso in 10 zone, affrontato per tre volte. Seconda posizione per Luca Petrella del motoclub Lazzate, terzo gradino del podio per il Lombardo Giacomo Saleri. Per i piloti regionali, nella Junior B, terza piazza per Adam Craigero del motoclub Carnico, che ha preceduto Eros Danelon, pilota di Enemonzo delle Fiamme Oro, al quarto posto. Mentre per il pilota udinese Giacomo Brunisso, un buon sesto posto. Una spettacolare zona indoor è stata allestita a vicino piazza Mazzini, nel cuore della cittadina carnica, attirando per l'intera giornata un numeroso pubblico, attento a seguire le evoluzioni dei piloti in gara, assaporando la suspense, il brivido e l'adrenalina che solo questa disciplina motoristica può trasmettere così da vicino. Promossa a pieni voti, la regia organizzativa del motoclub Carnico, del neopresidente Emanuele Prisco, premiata dalla presenza di un numeroso pubblico di appassionati e curiosi, stimato in almeno 3.000 persone, giunte dal Triveneto, ma anche da Austria e Slovenia. Per quanto riguarda lo sport, questo era l'ultimo servizio, io restituisco la linea a te Francesco per il meteo. Uno sguardo al meteo prima di chiudere il telegiornale, cero variabile su pianura e costa, nuvoloso in montagna, già in mattinata tempo instabile con probabili rovesci o temporali sparsi su tutta la regione, alternati a schiarite con piogge più abbondanti sulle prealpi carniche. Nel pomeriggio ed in serata saranno possibili delle nevicate fino a 1.200-1.400 metri. Sulla costa soffierà Borino per quanto riguarda le temperature, minime tra i 10 e i 13 gradi in pianura, massime tra i 16 e i 19, sulla costa minime tra i 12 e i 14, massime tra i 15 e i 18 gradi. Ed è tutto, il telegiornale termina qui, vi ringrazio per averci seguito, buon proseguimento di serata con Udinese TV. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS